la media dai mostra voglio essere sicuro che entra con speed e poi adesso beh c'è il suo numero dello speed qua e dove vada sull'applicazione su una media lottipi quella abbiamo installato adesso se le chiede un pano a passo se le chiede una passo per entrare questo qui devo digitare in mano 90 no clic i cicli che si va cancelli quello là che non c'entra niente non so perché la sua scritta adesso bene che è scaduto da un aspetto a quando scade lo rimette dai ce lo mette adesso 45 68 54 si conferma e vede ora signore fadam ha detto vero stato ieri allora faccio attenzione una cosa perché sia adesso questo qua lo chiuso ok le chi per riaprirlo da quale chiede un pin il pin glielo scritto qua pin otti 피 1 2 3